L'attrice ha attaccato il collega ed ex marito sulle pagine del settimanale di Più TV. Eleonora Giorgi è al settimo cielo per la gravidanza di Clizia in Corvaia. La modella e web influencer aspetta un figlio da Paolo Ciavarro, secondo genito dell'attrice 67enne. Un figlio che arriva a due anni dal primo incontro nella casa del grande fratello Vip. La Giorgi ha sempre mirato Clizia ed è contenta di questa svolta così importante nella vita di Paolo. Al contrario Eleonora non ha apprezzato il comportamento dell'ex marito Massimo Ciavarro. In una lunga intervista rilasciata al settimanale di Più Eleonora Giorgi ha ammesso di essere molto arrabbiata con il collega. Dopo aver avuto questa splendida notizia non mi ha ancora fatto una telefonata per condividere con me la gioia di diventare nonni, lo conosco. E fatto così, c'è ancora un grande affetto tra noi ma Massimo è burbero, un vero e proprio orso. Però sarà un nonno tenerissimo e anche molto presente, così come è stato da padre per Paolo. Oltre a non aver telefonato ad Eleonora Giorgi, Massimo Ciavarro non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione pubblica sull'arrivo del suo primo nipotino. Del resto l'attore è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata. In più questo non è un periodo facile per Ciavarro Senior, durante le sue vacanze estive la sua casa romana è stata completamente svaleggiata da una banda di malviventi. Eleonora Giorgi ha raccontato alla rivista edita da Cairo Editore come ha appreso della dolce attesa di Clizia in Corvaia. L'attrice, vista la terza edizione del grande fratello VIP, ha ricevuto un messaggino sul cellulare. Più precisamente la foto di un'ecografia che ha riempito di gioia Eleonora. La Giorgi non vede l'ora di conoscere il suo primo nipotino, che nascerà a febbraio. Al momento non è chiaro se il figlio di Clizia in Corvaia e Paolo Ciavarro sarà un maschietto o una femminuccia. Eleonora Giorgi non ha nascosto però di preferire una bambina. Impazzirei se la chiamassero Eleonora come me, ammesso. L'attrice ha confidato che Paolo Ciavarro è molto premuroso con Clizia in Corvaia e ha assicurato che il conduttore sarà un padre meraviglioso. In più Eleonora ha annunciato che per amore del nipotino in arrivo è tornata a vivere a Roma. Negli scorsi mesi Eleonora Giorgi aveva lasciato la capitale per trasferirsi in montagna ma ora ha scelto di rientrare nella sua casa romana per stare vicina Clizia e Paolo e dare una mano alla coppia tutte le volte che ce ne sarà bisogno.